Tranezza del mondo del calcio, noi abbiamo ragazzi, girano voci strane, girano voci molto strane per quanto riguarda la probabile formazione titolare di oggi, ne discutiamo insieme, di quelle voci che girano. Io ragazzi non ho anticipazioni particolari da dare, cerchiamo di azzecare questa formazione e speriamo bene. Oggi è comunque una giornata importante, dobbiamo partire bene e il PSV in Dovene è una di quelle squadre che comunque ti concede la possibilità di far punti in un cammino di UEFA Champions League molto complicato. Oggi dobbiamo dare delle risposte dopo due pareggi opachi, con due prestazioni opache, parliamoci chiaro. Sarò di nuovo allo stadium con la speranza che questo trend negativo cambi, quindi vi documenterò tutto. Ci saranno più e più video, ci sarà il post partita, ci sarà la reaction, ci sarà anche l'esperienza che farò con Adidas, che sarà diversa rispetto a tutte le altre. E quindi vi racconterò un po' tutto. Prima di iniziare ragazzi vi invito ovviamente a mettere il like al video e a commentare a fine video, queste sono le cose importanti. E poi se a fine video vi piace il mio modo di fare, iscrivetevi pure e mi fate un grande favore, è importante il vostro sostegno. In Port ragazzi non c'è alcun dubbio, giocherà di Gregorio e credo che sarà fondamentale, perché nella prima costruzione rispetto a Perin, che ha un buon lancio lungo, sulle giocate corte è un po' più confidente, possiamo dirlo, è più sereno nei passaggi, anche sotto pressione. Per cui, occhio però perché questi qua aggrediscono forte, e l'abbiamo visto ieri nell'analisi che trovate qua, o qua, non so. Andatevelo a rivedere perché è molto interessante che abbiamo fatto con i misscouting, abbiamo fatto veramente la lastra al PSV Eindhoven. A destra è molto probabile l'impiego di Pierino Calulu, che ha fatto una prestazione magistrale con l'Empoli, ma era un altro livello, un altro avversario, questa sarà più ostica, avrà contro dei giocatori molto molto rapidi, e qua è il vero banco di prova per Pierino. Speriamo che continui con quell'andazzo là, ma io ragazzi sono contento di Pierino, per cui forza e coraggio. Davanti, in difesa centrale, Gatti e Gleison Bremer, ovviamente. Una coppia consolidata che fa fatica un po' nel velocizzare la prima costruzione, ma dal punto di vista difensivo è una coppia molto solida. E l'abbiamo visto, e l'abbiamo provato nelle ultime partite, perché Dovbi che con la Roma non ha fatto nulla, con l'Empoli Gatti ha fatto delle chiusure straordinarie. In questo momento non toccherei quegli equilibri là e lascierei tutto così com'è. In questo momento danno garanzie. E alla Juve è questo che conta in questo momento. A sinistra gioca Andrea Esteban Cambiaso, lo chiamo così, o il calcio, Andrea il calcio Cambiaso. Gioca a sinistra, sarà lui anche che dovrà essere molto propositivo, dovrà creare delle trame particolari e dovrà cercare di smuovere qualcosina. A centrocampo non ho dubbi che Douglas Lewis partirà dalla panchina, giocherà a Locatelli. E su Locca mi voglio soffermare un attimo, perché tanti ci vanno sempre giù pesanti. Non l'ho mai ritenuto un giocatore, un fantasista, uno capace di trascinare un intero reparto. Non è quel leader tecnico che abbiamo. Ma è un giocatore che ha, con delle disposizioni tattiche ben precise, la pulizia tecnica per svolgere al massimo il proprio dovere. Per cui è un giocatore che se sa dove sono posizionati i compagni, se c'è una certa organizzazione risulta efficace. È il famoso giocatore di sistema. Non è un giocatore che nel caos riesce a trovarti il bandolo della matassa, a risolverti la situazione. È un giocatore che in un ordine tattico ben preciso è pulito, lineare e fa la cosa più intelligente. Quindi con Motta si sta comportando bene, ha iniziato bene. Douglas Lewis un po' lento. Locatelli meno lento, in quello che deve fare, e quindi giocherà lui. La vera sorpresa, ragazzi, è che potrebbe non giocare, che Frenturam, questo è il dubbio da sciogliere last minute, potrebbe giocare invece Weston McKennie, a gran sorpresa. Perché? Io mi sono fatto delle domande, ragazzi, ma in questo momento credo che la Juventus voglia dare un po' più di libertà a quelli là davanti, sui compiti un po' più difensivi. E McKennie è uno che ti copre tanta zona di campo. Vuole anche, secondo me, cercare di fare una gestione oculata su Frenturam, e magari dobbiamo mettere la partita in corso, come l'aspetto, senz'altro. Però McKennie aveva una cosa, se andiamo a vedere le heat map dell'anno scorso, copriva delle porzioni di campo straordinarie, enormi. E quindi credo che gli farà fare un bel lavoro difensivo, e anche di inserimento. Farà il pendolo tra le linee, andrà a rimorchio nelle azioni, e magari andrà anche a chiudere dentro l'area, quando ci sarà la possibilità, ma avrà anche il compito difensivo nelle transizioni, di stare molto molto attento, e di recuperare quanto prima possibile. Spiace non vedere sicuramente lo strapotere fisico di Thuram in una partita così complicata, perché uno come lui, anche in fase di possesso palla, è il classico giocatore che strappa, che riesce anche a crearti superiorità numerica, saltando col dribbling l'avversario e partendo in velocità. Non lo prendi mai. Peccato. Però, vediamo. A sinistra c'è il dubbio, perché a quanto pare Kenan Hildiz potrebbe partire a gran sorpresa dalla panchina, potrebbe giocare a sinistra Nico Gonzalez, e a destra UEA, al centro Kopp Meners e davanti Vlaovic. Questo potrebbe essere un potenziale assetto. Altrimenti ci si aspetta esterno-destro Nico Gonzalez, trequartista Kopp, a sinistra Hildiz e davanti Vlaovic. Ma credo che qualcosa lì la voglia cambiare, Motta, in particolare dall'ultima partita. Perché? Perché in questo momento credo che Hildiz, partendo da lato, in partite dove magari c'è un avversario che è abbastanza chiuso, la Juventus fa più fatica. Mi aspetto anche che se il PSV farà la mossa, la contromossa di giocare col blocco basso, che sarebbe un po' vada a snaturarmi per prendere qualche punticino fuori casa, e ci può stare nell'economia della partita, è uno che non rinuncia in genere alla sua idea, ma potrebbe farlo con la Juventus, viste le difficoltà evidenziate in queste due partite, anche da squadre più modeste come l'Empoli stesso, potrebbe preparare questa partita in maniera un po' più conservativa, ecco, meno avviso aperto, perché sai che la Juve ti fa affette. E quindi occhio perché potrebbe giocare basso, e poi grandi ripartenze con grandi qualità. Lo sanno fare, lo sanno fare bene. Noi dobbiamo essere bravi sicuramente a concretizzare, a buttare in più palle possibili dentro l'area di rigore, perché Vlaovic là si esalta, là ha grandi capacità, e dobbiamo tirare, dobbiamo tirare in porta, perché il Diz è già da un po' che non calcia in porta, Nico Gonzalez ha la capacità balistica per far male, Coppon Meniere è l'unico che ci ha provato male, con l'Empoli quindi bisogna osare. In questa partita serve personalità. Una cosa che c'è mancata, nell'ingaggiare il duello contro l'avversario, perché la partita non è solamente di collettivo e tattica, ma è anche di duelli uno contro uno. E noi quelli là dobbiamo vincere là davanti. E ultimamente non abbiamo vinto uno. Con l'Empoli non abbiamo vinto uno. Con la Roma non abbiamo vinto uno. Qua c'è da tirare fuori le palle e vincere. Poche scuse e pochi cazzi. È una squadra forte, sì, ma che balla anche dietro. Per cui andiamo a fargli male, andiamo a colpirli nei loro punti sensibili, andiamo a far male loro negli ultimi metri, perché non sanno difendere come noi. Questo è quello che dobbiamo fare. E non dobbiamo entrarcene con la palla tra i piedi, dentro la porta, eccetera. Bisogna anche calciare, bisogna anche crossare ogni tanto, perché secondo me abbiamo i giocatori per far male anche da quegli aspetti là. Forza e coraggio, cazzo. Sono veramente teso come una corda di violino per questa partita. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. iscrivetevi al canale. A proposito, aspettate, prima di chiudere, vediamola loro. Ledesma, Flamingo, Boscai e Dams, Till, Scouten, Werman, Bakayoko, De Jong, Tillman. Quindi, il centrocampo, Scouten, va verso la titolarità centrocampo, ha fatto anche il difensore. Linea difensiva composta da Ledesma, Flamingo, Boscai e Dams, e davanti, Bakayoko, Tillman e De Jong. Ai lati di De Jong. Quindi, De Jong prima punta, non mi pare un giocatore estremamente forte, cioè, Bremer ne ha marcati di più forti, quindi, anche qua, nei due lì uno contro uno, dobbiamo vincere, fine. Difensivamente dobbiamo battere l'oro. E davanti dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo saltarli. Quanto è che non vedete un dribbling là davanti? Il Diz ne ha fatti un paio, ma c'entrocampo. Ma là davanti? Eh, da un bel po'. Quindi, serve anche quello. Oltre che il concetto di tattica collettiva, dei movimenti senza palla, delle triangolazioni, dell'occupazione dello spazio, serve anche quella roba là. Vincere i duelli, uno contro uno, perché in Champions fa la differenza. nient'altro da aggiungere. Un abbraccio. Ciao belli.